No ragazzi, questo video merita 10.000 like perché vi ho fatto vedere tutte le skin della stagione 3 in anteprima Spolliciate tutti quanti, assolutamente Tu mi vuoi far vedere in anteprima? Perché sono in anteprima Esatto, delle skin della prossima season E forse anche la skin del livello 100 del prossimo pass battaglia Cosa? Ma che cos'è questo coso? Ciao, quanti sei dal vostro caro Max RRRRRRANDOM Ragazzi, oggi siamo tornati e sono qui in lobby Con una persona, una persona che molti di voi conosceranno Vi ricordate di Zarek? Ragazzi, ero venuto un sacco di tempo fa in lobby Ed ero venuto a farci vedere delle skin in anteprima Vi ricordate? Mi ricordo benissimo Quel video vi è anche piaciuto un sacco, tra l'altro Ragazzi, oggi è tornato Non so assolutamente cosa voglio e cosa voglio farmi vedere oppure cosa voglio da me Io comunque ho iniziato la registrazione perché voglio farvi vedere tutto O qualsiasi cosa accada E quindi per questo video raggiungiamo almeno i 10.000 mi piace Spollisciate tutti quanti, assolutamente E trovate anche l'Instagram di Zarek qua sotto in descrizione Iniziamo Ehi, ciao Max, ti ricordi di me? Sperto che mi ricordo di te Zarek Come faccio a dimenticarmi? Ehi, allora Non so se ti ricordi ma l'altra volta ti avevo fatto vedere delle skin in anteprima Quindi? Che cosa vuoi farmi vedere? Delle skin che usciranno ovviamente Oddio! Aspetta un attimo! Tu mi vuoi far vedere in anteprima? Perché sono in anteprima Esatto, delle skin della prossima season E forse anche la skin del livello 100 del prossimo post battaglia Non ci credo! Quindi ora Zarek tu mi stai per far vedere le skin del post battaglia della stagione 3 Eh, però aspetta Se no è troppo semplice Ti faccio vedere ora una skin per vedere che ovviamente non so scherzato come vedi Oddio! Facciamo così, ti propongo una sfida Dimmi tutto Ogni due kill, una skin Va bene, va bene Zarek, non vedo l'ora E allora direi di iniziare la partita e ci puoi vedere ogni due kill, una skin o un balletto nuovo Andiamo in partita Ok Zarek, quindi due kill, ma devo farle io oppure in squadra? No, 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 io e te ovviamente Va bene, va bene, allora sono super carico Dimmi solo una cosa, quante ne sono? Beh, ti dico un bel po' Un po' non ti voglio spoilerare troppo Va bene, mamma mia ragazzi 10.000 like per questo video Assolutamente Bene, allora ascolta Ma tu conosci qualcosa in più degli altri di questa season 3? Perché tu vedo che sei un hacker Non lo so come definirti Allora, te lo dico sinceramente Io so tante cose della prossima season Però dirla qua in anteprima Non vorrei che poi qualcuno se la prenda Comunque ti dirò Il 100% sarà tema d'acqua E uscirà una skin di Aquaman Quello è sicuro Addirittura la skin di Aquaman Eh, se questa season è uscito Deathbull Di sicuro Aquaman penso che uscirà E tu mi hai detto questa cosa così All'improvviso io non me l'aspettavo Va bene, va bene Allora, adesso vediamo di impegnarci Ok, perché qui sopra da me C'è gente Devo vedere di killarlo Sperando che non abbia tipo E poi un po' roba del genere Ecco, mi vuole far esplodere Ha messo le granate sopra Vai, 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 vai È sopra Prima a terra Prima a terra Vai, vai, una kill quindi No, è qua Eh, madonna Vai, tu c'è il pompa Dovresti riuscire Vai, Zarek Madonna, se ci sparano ora Siamo finiti Dietro, 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 dietro Aia, aia, aia Scendo Prova a scendere Sono sceso Ok, ammazzati Vai, due kill Andiamo con la prima skin Ok, Zarek Bene Abbiamo fatto le prime due kill Fammi vedere subito Immediatamente questa skin Non vedo l'ora Cosa? Ma che cos'è questo coso? Ma come c'è scritto sopra Non Eh, non ho Bruno Molto particolare Questa skin Non mi piace tanto Però ci sta Super figa Dicevo che gli do un 6,5 Dai Ci può stare Se lo merita Bene, Zarek Grande che l'hai gracciata Adesso però io non ho vita Non ho assolutamente vita Non ho niente Proprio zero Non so se mi intendo Per essere buono Piuttosto muoio io Ma tieni Grande Ma che gentiluomo che sei Vai Fammi fare sto medikit E dopo Però stiamo attenti Io non ho neanche colpi pump Non ho una mitraglietta Sto Messo malissimo Dai Zarek Allora ascolta Però dai Non puoi rimanermi così sulle spine Per così tanto tempo Eh, vabbè però Io te l'ho detto Due Cioè, due kill E poi dopo una skin Guarda qua Guarda Qui c'è tutta la tua opportunità Per farti vedere tutte le skin che vuoi E lei è pieno di gente Ok, vai Mi impegno Mi alzo le maniche E adesso si pusha Lasera, lasera Spacco l'1 Così lo distraggo Vai, no L'hanno ripreso Cioè, l'hanno ripreso No, quanti sono? Non lo so Oh, 30, 30 Vai, vai, vai Arrivo Vai, let's go Altre 2 kill Forza Zarek Andiamo con l'altra skin Questa qua Ovviamente Scrivete qua sotto il voto Di ogni skin Che vi ha fatto vedere Zarek Ok, shield Interessante Interessante Se sono più di due Dammene uno Tipo qua Tipo qua Oh, dove, dove? 30, 30, 30 Vai, vai, vai C'è anche un team C'è anche un altro sopra Vai 30 shield Hittato No, ghost hit No, le chiamate Attento, attento Che è successo? No, no Fermo, fermo, fermo Meglio, meglio Ma che sta succedendo? 23 40 Ok, bene 1 Vai, finisci Ok, l'altro dov'è? Qua No, no, no Max, è one hit È one hit No Ma che mi ha fatto entrare Dentro il coso? Vai Max Ce lo puoi fare Sono un anzietto per te Cavolo Hittato Ok, grandissimo Vai Madonna Madonna Alta skin Vai Ma questa me la sono super meditata Ok Altre due kill fatte Oddio Ma non me ne ero neanche accorto Ma è bellissima Ma sono tutte fantastiche Questo è tipo disco Mamma mia Oh yeah Let's go Andiamo in disco Facciate Lasciamo stare Comunque devo dire Molto figa Bella colorata Ci sta Ci sta davvero un sacco Voto 7 e mezzo Mamma mia Zec Che ansia Che ansia Adesso però siamo Per nostra fortuna Siamo vicini safe Eh ma anche 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 Super mega fortuna Vai Il destino ci vuole far vedere Tutte queste skin Super mega fighe Però c'è un piccolo Problemino Oh bene 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 Ma dai Ma che schifo Due bende Se vieni qua da me C'ho altre tre bende Oh comunque è bello Questo gioco Cioè siamo partiti da Borgo E stiamo tornando a Borgo Curiamoci Curiamoci Per le skin Voglio vedere le skin Ale Ale Con il mio motorino Bellissimo Sono rimasto in tredici Non possiamo fare tante altre kill Ora che ci penso Zerek Eh vabbè Dai meglio per me Cioè nel senso Oh come No Io le voglio vedere le skin No 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 Non va bene Non va bene Guarda Ma non c'è più nessuno La gente sta sempre di più Diminuendo No 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 non va bene Non mi piace questa cosa Non te le vogliono far vedere Non me le vogliono far vedere Allora ascolta Ho un piano Prendiamo l'elicottero E andiamoli a cercare tutti Dal primo all'ultimo Non capisco Dove sono questi qua Ci hanno distrutto l'elicottero Oh Gente sulla barca vai 20 E là E là Stanno tornando sempre indietro Io gli ho colpito sempre la barca Una volta lui Oh cacchio Aiuto 21 È qua Che culo Si è chiuso nel box Mi è cato un botto Guarda qua c'è il Travis Scott Che mi ha killato No È già finito i maz Cosa 81 È una situazione Molto critica Eh no Che cosa è successo Ma È un altro team Ma non ci credo Zerex Siamo morti Eh Max Però dai Dato che prima mi hai arrestato Oggi mi sento buono Perché da tanto che non vengo E voglio fare un regalo ai tuoi iscritti Ti mostro tutte le skin Ma soltanto per oggi Te lo dico Oh Ma sei un grande Fammele vedere tutte Le voglio assolutamente vedere Meno male Meno male Meno male Oddio Questa è bellissima Questa secondo me Si è fatta un botto di Ti ricordi per caso La gatta della season 7 La gatta della season Ah Sì 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 Links Questa nel prossimo pass battaglia Quella è la più bella Però ci sta comunque Super mega figa questa Vanno viste in game Vanno viste in game Peccato che non si può adesso Comunque ci sta Questa gli do 7 e mezzo Bellissima Guarda Ma guarda qua Ma guarda qua Cosa Cambia stile Quei balli No vabbè Vai Non vedo l'ora Fammi vedere altre Eh no no Bruno Questo è un po' brutto Questo è l'amico di quella Di prima che andava in disco Purtroppo Questa qua era l'ultima skin Però aspetta C'è un balletto e un backpack Allora Questa qua È il prossimo balletto Chi sta Un balletto Bello Figo Figo Ci sta un botto Il backpack nuovo Te lo dico Sarà gratis Questo qua è gratis Esatto Due ovi gigantesche Bellissimo No ragazzi Questo video merita 10.000 like Perché vi ho fatto vedere Tutte le skin Della stagione Tra in anteprima Spolliciate Tutti quanti Assolutamente Zarek Io non so come ringraziarti Davvero Mi hai fatto vedere Delle robe pazzesche Alcune meritate Alcune perché sei bravo Ma comunque Le abbiamo viste Ringrazio tutti quanti Per la visione Ringrazio Zarek Per averci fatto vedere Queste robe davvero pazzesche Ci vediamo in un prossimo video E ciao ragazzi Bye Ciao Zarek Ciao